Lucy fatto da Berta. Ma chi era Lucy? Lucy era uno dei primi ominidi scoperti sulla Terra. Scoperti da chi? Scoperti dai geologi. Infatti Lucy ha vissuto circa 3 milioni di anni fa. Quindi un 3 con 6 zeri. E chi l'ha detto? L'hanno detto i geologi. E Lucy è morta nel fango. È proprio per questa morte nel fango strana che è stata subito ricoperta nel fango e che il corpo e le ossa sono arrivate fino ai nostri giorni. Ma come era fatta Lucy? Lucy aveva 20 anni. Era alta circa un metro e pesava circa 25 kg. Quindi quasi come Ilaria. Dove viveva? Viveva nella savana, quindi con l'erba bassa o alta, gli arbusti e piccoli alberi. Proprio dove vivono i leoni adesso. E cosa mangiava? Dai denti hanno scoperto che Lucy mangiava bacche, radici, frutta e poca carne. Ecco qui il riassunto. Quindi, primi omididi, scoperti dai geologi. Ha vissuto 3 milioni di anni fa, un 3 con 6 zeri. Lucy è morta nel fango. Per questo le ossa si sono conservate. E aveva 20 anni, alta un metro e 25 kg come Ilaria. Viveva nella savana con erba, alberi, piccoli alberi. Cosa mangiava? L'abbiamo scoperto dai denti. Aveva una ditta vegetariana, mangiava bacche, radici, frutta e poca carne. E tanti saluti!